ciao ragazzi benvenuti stasera colore 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 sto micelando tre tipologie di colori carandace luminance faber caster polychroms e per il rosa perché in questa foto lei e capelli fucsia utilizzerò alcuni alcuni tipologie di colore un po particolare che poi vi farò vedere i capelli sono fucsia praticamente non 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 Grazie a tutti. 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 Lo trovi nel profilo. L'ho messo poco fa. Ho messo tutti insieme, come vi avevo detto, ho fatto un video con tutti i disegni che abbiamo fatto durante dieci giorni che ho disegnato mercoledì. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.